Per partire un modi del mai visto, si tratta di una struttura di Ferrari e di Vitao. Allora, sono delle incredibili Ferrari con questa sigla FXXK Evo. Per ritenerci, sono mostri da loro, dice Giovanni. E' partito con quest'auto straordinaria, 12 centimetri cubici di cilindrata. E' partito con quest'auto straordinaria, 12 centimetri cubici di cilindrata. E' partito con quest'auto straordinaria, 12 centimetri cubici di cilindrata. E' partito con quest'auto straordinaria, 12 centimetri cubici di cilindrata. La fonte della sporta straordinaria. E questo è il suono, un applauso per i toni. Ferrari, Brini, Brini. Raffa, la chitarra davvero. Questo è la chitarra di Slash, le Guns and Roses. Genti, senti qua. Che bellezza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.